Febbraio è stato un mese abbastanza strano perché da una parte alcuni degli asset nel mio portafoglio hanno performato molto bene, dall'altra invece alcuni altri hanno fatto segnare rendimenti negativi dopo un mese di gennaio in cui avevamo iniziato a vedere degli ottimi segni di ripresa. Allora andiamo a vedere come ogni mese come sono andati i miei investimenti a febbraio, partendo come al solito dalla categoria più piccola fino ad arrivare a quella che copre la porzione maggiore all'interno del mio portafoglio. Partiamo dunque dalle royalties musicali che coprono l'1,45% del mio portafoglio. Proprio durante il mese di febbraio ho pubblicato un video aggiornamento riguardante questa categoria di investimento ad un anno esatto da quando ho iniziato ad investire su Anyhood Music. Come spiego nel video, nonostante coprano solo una piccola porzione del mio portafoglio, le royalties sono l'asset che ha performato meglio di tutti durante il 2022. E anche a febbraio le cose sono andate molto bene. I cataloghi che mi hanno pagato royalties sono stati ben 9 per un totale di 10,22€ e tutto questo, vi ricordo, da un investimento di appena 500€. Resta pressoché invariata la situazione per quanto riguarda le mie partecipazioni in startup, dove mantengo quote in Blinkoo, EventFi e Outside per un totale del 5,6% del mio portafoglio. E cambia relativamente poco la situazione anche per quanto riguarda la categoria NFT, dove in realtà ho abbassato leggermente la mia esposizione ai soliti Sorare e Mobox al 6,25% rispetto al precedente 7,15%. Passando alla parte più interessante, troviamo prima di tutto il peer-to-peer lending col 9%. In questa categoria sto pian piano riducendo il mio capitale in Mintos, che intanto questo mese mi fa guadagnare appena 37 centesimi di interessi. Sto invece continuando ad aumentare il mio capitale in Bondora, che a febbraio mi ha pagato 3,89€ di interessi passivi. Su EventFi questo mese sono rientrati molti prestiti per un totale di ben 11,18€. E infine su Recruit la situazione è sostanzialmente rimasta invariata. Il mercato cripto questo mese passa al 17,55% del mio portafoglio e continua la sua ripresa, seppur a ritmo lento. Dopo aver riorganizzato il mio portafoglio a gennaio, ho continuato ad accumulare principalmente Bitcoin e Ethereum con acquisti ricorsivi giornalieri. E con un'altra leggera spinta al rialzo, a febbraio il valore del mio portafoglio cripto è aumentato di quasi 200€ rispetto al mese precedente. A febbraio ho iniziato a riorganizzare anche i miei portafogli azionari, che ora ricoprono in totale il 19,05% del totale. A breve farò anche uscire un video in cui vi spiego perché sto riorganizzando i miei portafogli, ma vi anticipo che a inizio 2023 alcuni dei più famosi broker europei hanno cambiato leggermente il loro piano di commissioni e quindi ora, rispetto allo scorso anno, si sono invertiti i rapporti di convenienza tra quelli che sono i principali broker europei. Quindi iscriviti al canale se non vuoi perderti questo aggiornamento. I dettagli li vedremo quindi in un prossimo video, ma intanto possiamo vedere che nonostante i costi di riorganizzazione, a febbraio il valore dei miei portafogli azionari è comunque leggermente aumentato dello 0,64%. Infine col 40,75% troviamo il mio piano d'accumulo su Moneyfarm. Purtroppo Moneyfarm questo mese torna a perdere qualcosina, calando del 2,45% e per trasparenza vi dico anche che ho ridotto il mio investimento mensile da 200 a 100€ per puntare chiaramente su investimenti differenti. Anche perché su Moneyfarm attualmente c'è quasi la metà del mio intero portafoglio e quindi è eccessivamente sovraesposto. Chiaramente come sempre io vi lascio in descrizione tutti i link relativi alle varie piattaforme che utilizzo per investire, ognuno collegato ad un diverso bonus per voi, anche se vi ricordo che non sono un consulente finanziario, quindi se decidete di investire i vostri soldi, fatelo sempre dopo aver fatto le vostre valutazioni personali. Vi chiedo di lasciare un like per supportare il canale e noi ci vediamo come al solito al prossimo video.